Adesso Chirenis vi risolverà il problema Invece finalmente torniamo a dei viewer accettabili per uno streamer del tuo calibro Beh dai, oddio tutta questa luce blu in faccia Allora innanzitutto la prima cosa che si deve fare è il sub al canale di Chirenis Altrimenti non funziona, fidatevi Dovete creare una connessione a banda larga Come si fa? Dovete cliccare col destra su questa icona Apri con impostazioni di rete, chieta e morti Centro connessione di rete e condivisione Una volta che siamo andati qua dentro fate configurare la nuova rete Poi fate connessione a internet, avanti Configura comunque una nuova connessione perché siete già su internet Fate, crea una nuova connessione, avanti Grazie Connessione da banda larga poppe Qua non dovete mettere niente, non è necessario E fate connetti Ora io non metto connetti perché ho paura che mi crasha la live e perdo tutti questi bei soldini Ma quando avrete fatto questa roba vi dovreste ritrovare con due connessioni quando cliccate qua Non vi connette automaticamente alla connessione Andiamo ad uccidere, andiamo ad uccidere Andiamo ad uccidere Andiamo ad uccidere Oh mio bad Cosa ne pensi di Britz che dice che la botline è la lane come l'impatto Britz fa il pagliaccio e lo fa bene Infatti dice cosa è la pagliaccio Botline broken AD carry broken e il support non solo broken è anche easy Ah non vediamo non ho messo le caglip Voglio un attimo vedere Oh no no questo No beh di odiociato Twitch per l'amor di dio Volevo commentare Allora è una pagina che si chiama Dunk Movie E Dunk Movie ragazzi ascoltatemi Dunk Movie Dunk Movie Ragazzi ascoltatemi Dunk Movie Sono una Spesso mi ammazzi Muore muore Ok prendiamo Tabby Mi senti? Ti sento! Mi senti? Bene benissimo L'aspettavo da settimane Davvero? Sì Mi spiace un po' Sì Mi viene un po' da ridere Mi sposto un attimo Eccomi! Mmm Beh l'urkar qua Manca di rispetto ancora di più di Mi sono anche già dimenticato il nome Mi spiace un po' per il team No rinvita Dai rinvita Rinvita Dai la chat ti vuole bene La chat ti vuole bene Rinvita Rinvita Dai finita la scenetta Giochiamoci Giochiamoci Dai rinvita Rinvita Non è che la R di nuovo questo Non è che mo' caccia qualcosa di Incredibile Incredibile Ce l'ha di nuovo Ce l'ha di nuovo Perché se non giochi contro gente del tuelo Poi in realtà non è che Cioè Il campione un po' lo impari Giocando Anche in normal Mi due le dire questa cosa Ma anche in normal Non puoi impari il campione Perché impari le spell Però Giocando con gente Non del tuelo In realtà non è che imparire anche Ma perché Dava Ma che comportamento Di sindra Che si è giucciato il mio Guarda Gli ha fatto rigenerare lo shield Ah ma guarda Link Ah mio dio Sì Non lo faccio lo scatolo Ok Si è baggato Guarda come corre questo E vabbè Guardalo Guardalo Quante veloce sto pedente Oh mio dio Tre ore ho perso Qui Il mega scatto E dai Mamma Chi fa Dai Dai Smetti Non ti prego Non ti rimane Ah mamma Mamma mia Holy shit Ok dovrebbe crepare È morto Che palle Come che morta lì Era full vita Porca madosca Dai madonna Ah dove vai Dove vai Dimmi dove vai Dimmi dove vai Ah No ma what Pince pure contro di me Adesso senza vita Ma io non lo dire Non riesco a capire Com'è possibile Ah mazza Ah Oh Ah 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 Eh ma se ti dico di filarti c'è un motivo però eh Un bicchiere di fumo Qualcuno vuole un bicchiere di fumo se fai andare via il fumo attorno Guarda è tutto bianco wow guarda quanto è denso Ma è magia Guarda sembra uno scienziato Che c'è qua dentro Niente il fumo Tu vuoi il fumo? Appena cliccato non avete idea di cosa avete appena fatto ragazzi Neanche Elias Porco madonna mi è open Porco dio Chi ha parlato di boccelli Ma che cazzo parla di boccelli Voglio il tuo super potere Non voglio più vedere Non voglio più boccelli ti do i miei Ti do i miei Non voglio nulla in cambio Non voglio nulla dio porco prenditi Non li voglio più Non li voglio ragazzi ve lo giuro Mamma mia ammazzami Mbarclam Mbarclam